Un'app da intrattenimento, Dodge Dot, ma che tuttavia può servire per i bambini piccoli per discriminare bene i colori e per potenziare la manualità fine. Si tratta di spostare dei punti colorati verso la barretta dello stesso colore e il gioco ha più livelli e ha un punteggio. Grazie per la visione!